Adesso ho sentito tutti. Grazie, grazie troppo gentili. Insomma noi speriamo di essere riusciti anche quest'anno a trasmettervi un'emozione, a far arrivare dal palco a voi tutto l'impegno e tutta la voglia che hanno messo questi ragazzi nel sicuro un grande lavoro, ma soprattutto speriamo di essere riusciti ad emozionarvi e speriamo di essere stati tutti all'altezza di questo splendido pubblico. Quindi l'ultimo applauso ce lo facciamo tutti insieme e ci rinnoviamo per anni. E non riesci a fare di seguire su lista la pagina del tableau del blu. Tableau del blu. E la pagina del blu di Belen Power. Domani mettiamo like insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non faccio niente. Grazie a me con te. Grazie a tutti.